Nalesso è un'azienda artigianale specializzata nella produzione di arredi su misura sia per il mondo indoor che outdoor. È stata fondata nel 1980 dal signore Armando Nalesso e dalla moglie Dina che sono partiti da un piccolo laboratorio e da più di 40 anni crediamo nella sartorialità del prodotto, nelle competenze della progettualità e nella ricerca incessante di materiali tecnici. Nel tempo la nostra passione, la nostra visione ci ha permesso di collaborare con i più prestigiosi brand del lusso ed anche con architetti di fama internazionale. Le sfide che quotidianamente ci troviamo ad affrontare qui in Nalesso le affrontiamo nel nostro ciclo produttivo che va dalla fallegnameria, alla sartoria, alla tappezzeria fino al nostro polo tecnologico. Polo tecnologico è il luogo dove raccogliamo quindi le idee del cliente e cominciamo ad elaborarle per creare il suo oggetto su misura. Ci prendiamo cura del prototipo ma anche di piccole serie di qualche pezzo piuttosto che anche di grandi serie quindi di commesse di decine di pezzi magari anche con materiali diversi. Il tutto con l'ulteriore elemento della tempistica perché ovviamente i nostri clienti hanno tempistiche ben definite e legati magari ad apertura o ad eventi che sono da rispettare. Abbiamo scelto la soluzione Fornitron on Demand by Electra per diversi fattori. Tra i principali sicuramente la possibilità di digitalizzare ed archiviare le nostre dime, le nostre cartamodelli passando la conoscenza dal singolo operatore a patrimonio quindi dell'azienda. Inoltre la possibilità anche di digitalizzare ed archiviare i materiali ci dà la possibilità di essere più tempestivi nella risposta al cliente. Come benefici sicuramente abbiamo una riduzione del consumo, abbiamo stimato una riduzione dal 5 al 7 per cento del materiale dato dal piazzamento automatico della macchina e anche dalla possibilità di mixare più modelli sullo stesso tessuto. Inoltre con una velocità di taglio di circa 120 metri al minuto in combinata con il taglio in continuo ci dà la possibilità di avere un recupero di produttività di circa il 15%.